Allora, eccoci qua, vi do il benvenuto a tutti a questo Motivation, sono super felice di essere qui questa sera e se non ci siamo già gasati a sufficienza per il mese di aprile e per il sound che Candotti ha messo per la sala, diciamo che siamo pronti a caricarci con la Zoom. Allora, mi presento velocemente, sono, per chi non mi conosce perché molti di voi non mi conoscono, sono Mattia Pinoli, ho 31 anni e vivo in un piccolo paese alle porte della Valtellina, quindi all'inizio del lago di Como. Ok, io ho iniziato a fare network ormai sei anni fa, ho avuto due esperienze precedenti, però due esperienze che comunque mi sono servite per arrivare invece in Fitline ed essere pronto ad affrontare un'avventura incredibile che sto vivendo. Sono super felice perché a settembre 2020 ho conosciuto una persona che casualmente era qui sul lago, lavoravano qui sul lago perché sappiamo che il network permette di lavorare da dove si vuole e ho avuto la lungimiranza ma allo stesso tempo loro hanno avuto la gentilezza di accogliermi in casa e ci siamo fatti due chiacchiere. Mirko appunto l'ho conosciuto insieme a Francesco e gli altri ragazzi a settembre e diciamo che lì io facevo altro, loro facevano altro, però è nato subito un feeling, un buon rapporto, siamo rimasti in contatto e lo dicevo proprio in questi giorni a Mirko, Mirko, pensa a te, ci siamo conosciuti per caso ormai due anni fa e ad oggi siamo qui a lavorare insieme. Io con Mirko ho deciso di provare i prodotti perché comunque facendo sport, attività, seguendo comunque la nutrizione controllata, ho deciso, proviamo questi prodotti e vediamo, tanto una marca per me vale l'altra. Però conoscendo il network ho anche detto, ma facciamo che, visto che i prodotti si meritano, valutiamo anche l'opportunità. Dopo due mesi dall'utilizzo dei prodotti ho deciso di partire facendo appunto network con i ragazzi e penso che stiamo facendo qualcosa di incredibile. ma soprattutto ci tengo a precisare che le cose non succedono mai per caso, perché la prima esperienza, io dico sempre nel network, la maggior parte delle volte o tante volte ti capita tra le mani perché un amico, un conoscente te ne parla. Nel mio caso la seconda esperienza è stata un seguire le persone che mi avevano introdotto nella prima, ma in questa terza esperienza ho scelto io. Quindi ho deciso chi seguire e ho deciso quale azienda cavalcare, perché diciamo che questo è uno strumento che ci permette di fare business e penso di aver scelto il miglior strumento possibile per portare avanti questa attività. Quindi sono felice perché il mese scorso ho raggiunto una qualifica che era, diciamo, la prima che ho puntato quando sono entrato in questa azienda, quindi M&M. Sono super contento, ma a parte i bonus, c'è la consapevolezza che questa qualifica ti dà e ti permette di affrontare poi il proseguo della carriera, dell'attività con un altro mindset. E solo così, lavorando su noi stessi, possiamo poi crescere perché non si arriva ad un risultato senza essere cambiati prima. Ok? Siamo solo, cambiando noi, possiamo arrivare ad un risultato. Quindi un risultato e un cambiamento l'hanno avuto la grandissima due ragazze che non vedo l'ora di presentarvi, perché le ho conosciute, sono diventate amiche, lavoriamo insieme, non importa da che parte del team sono, perché quando si staurano rapporti del genere non conta. E ad oggi hanno ottenuto un risultato eccezionale. Vi presento quindi due ragazze super determinate che hanno chiuso la qualifica di Vice President e non vedo l'ora di ascoltarle. Lascio la parola a Silvia e a Liai. Buonasera a tutti. Grazie mille. Tia, come al solito, ci metti sempre a nostro agio. Però super complimenti veramente a te, perché il salto di qualifica e arrivare a IMM è veramente un traguardo. Infatti quando abbiamo letto marketing ho detto no, no, Tia chiude IMM, assolutamente. Super complimenti ancora. Allora, questa sera ci siamo un pochettino divisi i compiti, quindi abbiamo trovato un argomento un po' mio e un argomento un po' solo che vi parlerà dopo lei. Allora, innanzitutto dico una cosa che abbiamo un po' un problema con la connessione, quindi se a volte rimarremo frizzate è normale, può succedere. Speriamo di non lo può succedere. Detto questo, l'argomento che voglio portare stasera è forse più indicato per le persone magari nuove o comunque da poco in attività. Perché è un argomento che io ritengo mio e che applico fondamentalmente, cioè fa parte della mia vita in generale, non fa parte della mia vita solo nel network. È quello proprio del essere, fare ed avere. Perché io penso che sia fondamentale e fa paura all'inizio perché quando uno si iscrive sei da solo, vedi le altre persone che hanno magari già un team, sono già avanti, eccetera, ti senti un po' di dire ma ce la farò. In realtà quello che fa la differenza secondo me è proprio l'atteggiamento con la quale ci si pone, sia che sia per la vendita, sia che sia per l'iscrizione, sia che sia in generale di parlare dell'attività, che poi riflette anche su tutta la vita in generale, almeno per quanto riguarda me. Quindi se qualcuno ci segue avrà visto le storie del mese scorso, noi avevamo scritto in grosso sullo specchio, anche dopo la zoom di Cristina, vice president grosso come una casa. Diciamo che noi l'abbiamo scritto lì a fine mese dopo appunto la zoom di Cristina, però quel vice president era nella nostra testa già dall'uno di aprile. Nonostante noi verso metà mese avevamo un back office di 3.000 punti, quindi era molto lontano il vice president, però è proprio l'atteggiamento con la quale ci si pone. E anche se avevamo un punteggio non in linea con il rank che dovevamo ottenere, quando parlavamo con le persone per iscrivere o comunque presentare attività, coneggivano in che rank siete vice president. Siamo nel top management, ma questo non perché uno vuole essere arrogante o roba del genere, ma proprio perché te la devi sentire tua. Cioè devi essere tu a posto e sentirti a tuo agio in questa situazione. Non c'entra niente il ma non so tutto, non sono super competente come può essere una persona più in alto di me, non c'entra. Perché come ci viene sempre insegnato, noi non vendiamo il prodotto e non vendiamo l'opportunità, noi vendiamo noi stessi. Quindi nel momento in cui tu credi in prima persona che ce la fai, è quello che riesci poi a trasmettere alle altre persone. Quindi parlo per me, io vedo la Champions, ovviamente il traguardo più bello che ci sia attualmente nel piano compensi. Quindi per questo anche sui social o quando si va agli eventi, mi aggrappo e seguo quasi in modo ossessivo tutte le persone che stimo. Perché cerco di capire come parlano, come si atteggiano, cosa dicono, come si comportano, proprio perché voglio dare quella sicurezza anche alle altre persone. E poi cosa dire, magari le persone a volte, quelle che entran da poco, non si approcciano con questo atteggiamento, non perché non conoscono il prodotto, perché non conoscono, non hanno tutte le competenze, ma semplicemente perché magari hanno paura di fallire. Nel senso, io mi dichiaro e dico un obiettivo, però se non lo raggiungo mi sento un fallito. In realtà non è così, perché adesso io lo dichiaro, lo dichiariamo davanti a tutti, questo mese noi corriamo per fare l'executive vice president. Poi, se non dovesse succedere che chiudiamo comunque con... Se chiudiamo, dovessimo chiudere con 40.000 punti, noi non ci sentiamo fallite, anche se abbiamo dichiarato un'altra cosa, perché passare da 25.000 a 40.000 va benissimo lo stesso. Però proprio qua è l'atteggiamento, cioè anche se non ci sono i numeri, non ci sono le persone giuste, non ci sono i numeri di persone, fa niente. Noi vogliamo arrivare a quell'obiettivo, poi se non cadrà questo mese, cadrà il prossimo, sicuramente ce la facciamo. Però la cosa fondamentale dell'essere, fare avere, quindi essere, sentirsi già quel rank a cui uno ambisce arrivare, fare, quindi confortarsi nel modo di queste persone, quindi di una champion sul rank a cui uno ambisce e di conseguenza arriva, il risultato arriva. Ma per fare questa cosa c'è bisogno per forza di un cambiamento, per forza. Non si può pensare di riuscire, ma anche soltanto fare un semplice SM, cioè anche, non parliamo di cose esagerate, ma anche le piccole cose non accadono se uno non ha un cambiamento, almeno in questa attività. E quindi la parte del cambiamento, io non credo che ci siano tante persone che conoscono l'IAI da prima di quando abbiamo iniziato a fare network marketing, però vi garantisco che la persona più azzeccata che può parlare di cambiamento è lei, perché ha avuto un cambiamento, ma proprio a livello dal nero al bianco. Lei ha una capacità di apprendimento veramente fuori da ogni portata e in pochissimi mesi io l'ho vista proprio capovolta. Quindi meglio di lei non c'è nessuno per spiegarvi comunque quanto sia importante in questo lavoro la parola cambiamento. Quindi adesso che ti ho messo a tuo agio, mi ha detto, parlare di cambiamento. Buonasera a tutti, io sono Aliai. Per quanto riguarda, che apprendo facilmente, la ringrazio, cioè tutte le scuole mi hanno sempre detto che ero brava, non mi applicavo, e mi hanno anche bocciato, quindi adesso per me è una grande conquista quello che mi ha detto mia moglie. Comunque per quanto riguarda il cambiamento, sì, sono la persona più azzeccata. Perché? Perché all'età di 36 anni mi sono dovuta mettere in gioco, ma non mettere in gioco così. Cioè io ho dovuto veramente modificare il mio modo di essere. Non ho mai, sono stata sempre una persona molto selvatica. Sul telefono avevo, se no, dieci numeri di cui ambulanza, carabiniere, comunque tutti i numeri volti alla mia sopravvivenza, sola ed egoistica. E comunque non odiamo le persone, ma semplicemente non ne sentivo l'esigenza, non sentivo l'esigenza di far parte di un gruppo, non sentivo l'esigenza di avere a che fare con le persone. Ma quando io e Silvia abbiamo iniziato a fare una crescita a livello mentale, mi sono resa conto che delle persone non bisogna avere bisogno, non bisogna avere bisogno, non bisogna avere necessità, ma arrivi a sentirne l'esigenza, arrivi a sentire l'esigenza di avere accanto persone con una certa energia, con una certa vibrazione, con una certa positività e soprattutto che ti ispirano. Perché poi arrivi a renderti conto che non tutte le persone sono fonti di stress, di lamentele, eccetera. E così arrivo a casa un giorno e dico, a Silvia facciamo network marketing. E vi posso assicurare che ero l'ultima persona al mondo che poteva fare network marketing. Nessun tipo di networker avrebbe mai avuto il coraggio di reclutarmi perché, cioè, ero proprio tabula rasa. Cioè, manco tra un po' i miei fratelli mi conoscono, quindi, cioè, veramente sono una persona totalmente lontana da questo mondo. Allora, abbiamo, ci siamo iscritte a Fitline, abbiamo deciso di unirsi a questo team e il mio approccio è stato il peggiore in assoluto. Cioè, era stato come prende una Ferrari a 100 da l'ora andare a sbattere il conto al muro. Perché? Perché io dicevo, io e Silvia stiamo facendo un percorso di mindset, leggo un sacco, facciamo altri business, cosa vuoi che sia il network marketing, sarà una passeggiata, insomma, cioè, me lo mangio. Me lo mangio, me lo mangio un paio di niente, nel senso che io mi sono ritrovata a un certo punto, ad alzarmi la mattina a bere e veramente piangevo. Piangevo perché mi rendevo conto che la LIAI doveva prendere se stessa e ribaltarsi totalmente. Cioè, non avevo neanche la consapevolezza di cosa significasse fare il network marketing. Io pensavo fosse una passeggiata. E quindi, potete chiedere a Silvia, io tante volte avevo le crisi, dicevo, io non lo voglio più fare. Io voglio tornare alla mia vita di prima, dove? Perché, avevo il mio articello, stavo bene, ok, avevo i miei numeri sulla rubrica che mi servivano a conto. Ma non è stata Silvia, non è stato Mirko, non è stato nessun altro a portarmi qua oggi. Ma è stata una scelta mia. Perché, ricordiamoci bene una cosa, che quando noi abbiamo cliccato su Unisciti a noi e abbiamo detto sì al nostro sponsor, non è stato quello il momento del nostro cambiamento. Quello è semplicemente il momento in cui la nostra coach, che è la vita, ha deciso di metterci in partita, di metterci in gioco in quella che è la partita del cambiamento. E lì, quello che poi sarà il successo, la sconfitta, non sarà legato al network, non sarà legato al prodotto, non sarà legato al team, sarà una scelta nostra. Io, come Silvia lo può confermare, mi alzavo la mattina esaurita perché era una cosa che mi mandava in bestia. Io dovevo uscire dalla mia zona di comfort e non riuscivo. Perché? Perché quando tu vuoi uscire dalla tua zona di comfort, il tuo cervello vuole proteggerti. Cosa fa? Innesca meccanismi che alla fine ti fanno dire, ok, no, lasciamo perdere, non è il business per me. Ma io mi alzavo perennemente in crisi i primi mesi e cosa facevo? Facevo la foto al power cocktail. Facevo la foto al power cocktail e la mettevo sul sito perché in fondo ero sempre fra voglio mollare, ma so che questa opportunità è fondamentale e che la vita non ci presenta mai quello di cui abbiamo bisogno. Anzi, non ci presenta mai quello che vogliamo, ma solo quello che abbiamo bisogno. E io in quel momento avevo bisogno del network marketing, avevo bisogno di fitline e oggi mi rendo conto che sono stata io a scegliere di vincere. E ogni giorno scelgo di vincere perché per me vi posso assicurare che è un cambiamento continuo, ma come lo è per tutti, come lo è per la Dada, come lo è per Mirko Candotti, come lo è per Francesco Aglietta. Ma è una scelta che io faccio ogni giorno, è una scelta che io e Silvia facciamo ogni giorno. E quando le persone mi dicono, ma voi siete in due, vi posso assicurare che non è così. Noi siamo in due perché abbiamo la stessa direzione, ma io e Silvia viaggiamo sempre su due binari diversi. Perché è un percorso personale, ragazzi. Se vogliamo veramente vincere in questo business, dobbiamo decidere che la motivazione che ci ha spinto a entrare sarà quella che ogni mattina ci farà svegliare e ci farà dire momenti down, momenti up, noi dovremo essere lì con il nostro power cocktail. E dire perché questo mese ce lo mangiamo. E come ci siamo mangiati aprile, ci mangeremo anche maggio. Quindi vogliamo vincere questa partita di cambiamento? Io la voglio vincere. Lei sicuramente la vuole vincere, anzi più di me, perché essendo due donne siamo sempre molto determinate e oltre ogni limite. Quindi cosa vogliamo fare? Ce lo mangiamo questo maggio? No. Certo che ce lo mangiamo. Vabbè, io ho i brividi. Le prove non erano così. No, mi è uscita così. Così. A getto. Mi è passata. Bene. Speriamo di avervi passato qualcosa. A me le mi ha passate tantissimo. E adesso, cosa dire, lasciamo la conclusione. top per poter chiudere in strabellezza al nostro executive vice president Mirko Candotti. Io non lo so, sono emozionato e avevo quasi gli occhi lucidi mentre parlava. Alia è difficilissimo perché mi ricordo i primi momenti. Mi ricordo i primi momenti. che non ti conoscevo prima e quindi diciamo che non ho vissuto quel cambiamento che ha vissuto Silvia, ma cosa che vi dico spesso, ho visto il cambiamento dal primo giorno a oggi. E quel cambiamento nell'arco di neanche un anno, io credo che sia solamente da, non lo so, da apprezzare e da prendere di ispirazione. perché lo siete per me, credo lo siate per tante persone all'interno di questa Zoom e lo siete soprattutto per tutte le persone che incontrerete. Quindi io vi faccio ancora i miei complimenti e complimenti ancora per i risultati del mese scorso. Stavo scappando prima perché non sapevo delle VP in realtà e quindi mi stavo prendendo un coccolone. Tia, che dire, prima Zoom e sono super, super, super fiero di te perché sai il fatto tuo. Quindi complimenti anche a te per l'ottimo lavoro e per l'ottima qualifica. E ciao a tutti. Io sono Mirko, sono emozionatissimo perché credetemi vedere queste tre persone che mi, come posso dire, non dico ho cresciuto perché non è merito mio se sono cresciute, però vederle vederle dal giorno zero crescere con me è veramente emozionante, credo sia una delle cose più belle del network, oltre ai soldi, le qualifiche, bere, le feste, eccetera, eccetera. Vabbè, detto ciò, insomma, io sono Mirko, ho 30 anni, sono nel settore del network da cinque anni circa e vorrei iniziare con una frase per poi raccontare un pochino la mia storia per chi non la conoscesse, che riprende in realtà moltissimo, seppur non ci siamo preparati, quello che di cui hanno parlato i ragazzi, che è la vita è come un eco, se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. Questa è una frase che mi ripeto spesso, mi ripetevo spesso, soprattutto all'inizio, quando non mi piaceva per niente il messaggio che mi continuava a rimandare indietro e continuava ad incolpare la vita che sembrava che avessi sempre con me. In realtà ero io, che probabilmente ce l'avevo con me stesso e sbagliavo ad inviare continuamente messaggi, anzi sms all'inizio, perché non c'era neanche whatsapp, fino a che ho capito che forse bisognava cambiare qualcosa. E come ha detto benissimo, impeccabile, Aliai insieme a Silvia, il cambiamento è una decisione che aspetta a noi. Anche il cambiare all'interno del percorso è una decisione che fa una grande differenza e lo dico perché un anno fa, in realtà quasi un anno fa, tra due giorni farò il mio compleanno in PM, noi un anno fa ci siamo trovati a voler cambiare. seppur avessimo già esperienza, competenze, qualche risultato, nel settore del network ci siamo trovati a cambiare, a prendere una decisione, perché eravamo in un'altra azienda dove eravamo da tre anni, quindi non è che dici sai sei appena entrato, ovviamente non ti conosce nessuno, fai il fantasma e sparisci. Non era proprio così. Eppure in quel momento io mi accorgevo che ero in un posto in cui non ero felice, mi accorgevo che stavo effettivamente affrontando un percorso di crescita dove io mettevo dell'impegno per crescere, ma la direzione era quella sbagliata. E non è stato semplice, e non sono stato l'unico chiaramente perché la decisione è parita insieme ad altri ragazzi che vedete sempre con me e io con loro, non è stato semplice decidere di cambiare un percorso che sembrava già scritto e che in realtà poteva anche esserlo per comodità di qualcuno. Però nel momento in cui ti accorgi che effettivamente tutto quello che ti sta tornando indietro non corrisponde a quello che vorresti realmente ottenere, non ti senti gratificato alla fine delle giornate, non ti senti in pace con te stesso quando parli con gli altri, non senti di essere felice nel posto in cui sei, sei obbligato a cambiare. perché altrimenti accadrà qualcosa di brutto che ti farà cambiare per forza. Quindi è sempre meglio cambiare per decisione che per obbligo. E nel momento in cui ti metti nella posizione di voler cambiare, ti accorgi di avere due palle quadrate e un gran coraggio, perché cambiare è difficile sempre. Non c'è qualcuno per cui è più facile cambiare, qualcun altro per cui è meno facile. Cambiare è difficile per tutti. La differenza, come ha detto benissimo Silvia, è l'atteggiamento con cui andiamo ad affrontare il cambiamento. Prendi consapevolezza che è difficile. Quindi sai già che darai il meglio di te per affrontare quel cambiamento. Poi se sarà più semplice del previsto, meglio. Se sarà più difficile del previsto, meglio ancora, perché impareremo di più. E in questo settore, io quello che ho capito un pochino in questi anni, l'ho resa molto semplice, prima stavo pensando di cosa parlare, e che stavo riflettendo effettivamente su cosa serve poi in questo settore per ottenere dei risultati, per essere felici, per stare bene, per togliersi delle soddisfazioni. Serve uno, saper comunicare. Che a volte uno dice, ma non sono portato, non sono portata, cosa devo fare. Innanzitutto serve costruirsi una piccola base. Uno, saper comunicare con annessa vendita, gestione obiezioni, un minimo di italiano, non per forza a livelli altissimi, anche perché io sono mezza capra, però un minimo di comunicazione sappiamo che è importante, anche per far passare i concetti, che sia i clienti, che sia i team partner, o a nuovi prospect, nella maniera corretta. Poi serve sapersi relazionare. Sappiamo benissimo tutti che il network marketing non è un business di prodotti, di servizi, il network marketing è un business di relazioni. Altrimenti non si spiegherebbe perché delle aziende che hanno dei prodotti scadenti riescono ugualmente ad ottenere dei risultati. E perché le persone al loro interno sono state brave a creare dei legami tali per cui, vabbè, il prodotto, anche se non è proprio il massimo, fa niente. E ve lo dico per esperienza personale. Perché quello che nel nostro percorso, mio e degli altri ragazzi con cui collaboro da anni, c'è sempre contraddistinto, è stato proprio la coesione, la relazione tra di noi e tra le persone che ci circondavano. Per cui se il prodotto arrivava con tre mesi di ritardo, eh vabbè, dai, è capitato. È capitato. Se il prodotto faceva schifo, è capitato anche quello. Però vabbè, tu non ti preoccupare che facciamo gruppo, c'è l'evento, il training, la festa, la cena. È importante sapersi relazionare. E per sapersi relazionare dobbiamo interessarci sinceramente agli altri, creando legami. Quando diciamo interessarci sinceramente, la riduco al classico, se ti chiedo come stai, ascolto la risposta. Quindi non ascolto per rispondere, ascolto per comprendere e per interessarmi. E questo, credetemi, fa una grandissima differenza. Sia verso le persone a cui vogliamo, vogliamo, o comunque possiamo risolvere un'esigenza vendendo il prodotto, perché se ascoltiamo, ci dicono l'esigenza, noi diamo il prodotto e il gioco è fatto. Sia anche verso le persone che sono già parte del nostro team. Perché io come faccio a sapere che dicendo A a Silvia, B a Liai e C a Mattia, sto dicendo loro la cosa migliore per la loro crescita. Magari dovrei fare C a Silvia, A a Liai e B a Mattia. Seppur i tre concetti possano essere tre concetti corretti, è importante capire di cosa hanno bisogno le persone per dare poi loro la soluzione migliore. Se non è solamente un vomitare parole sperando che si incastrino giuste come i pezzi nel puzzle. Quindi sapersi relazionare. Con il fine proprio di creare il legame e la relazione. Il terzo punto è quello che mi piace di più. Che è sapersi divertire. Ma è sapersi divertire all'interno di questo settore, all'interno di questo business. Io prima di questo, di entrare nel settore del network e anche nei primi mesi, facevo il PR. Insieme ad altri lavori, eccetera, eccetera. Però facevo il PR e amavo alla follia quel lavoro. Sempre discoteca, in mezzo alle persone, musica, orari folli, divertimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non riuscivo a capire che era un divertimento che danneggiava il mio business. Non lo faceva crescere. Perché? Perché ero abituato che nella mia vita, diciamo vita pre-network, quello era una valvola di sfogo. Quindi il lavoro non mi permetteva di essere la persona che volevo essere, di crescere come volevo crescere, di divertirmi come volevo divertirmi. Quindi, oltre al fatto che ci guadagnavo dei soldini, ma quella era la mia valvola di sfogo. E quindi all'inizio cosa facevo? Network e il PR. Non riuscivo a dire, ok, proviamo a divertirci all'interno del network. E questo per me era una grandissima distrazione. Perché le energie che avrei potuto utilizzare all'interno del network le utilizzavo fuori. Dopo un po' ho capito che avrei potuto divertirmi allo stesso identico modo, e credetemi se non di più, infinitamente di più, all'interno di questo settore. Perché è proprio portando le persone ad essere felici e a divertirsi che impariamo come stringere i legami forti con loro. E quando riusciamo a strappare il sorriso a una persona, e quando quella persona ci dice grazie avevo bisogno di questa serata insieme, di questa cena insieme, di questo aperitivo, di farmi due risate con voi, non ci deve essere per forza sempre di mezzo il bere. Poi vabbè, se anche c'è qualche brindisi non mi ha un problema. Però è importante sapersi divertire lavorando. Questo è uno dei pochissimi settori che ci permette questo. E io amo alla follia, gli eventi, lo stare insieme, proprio perché ti fa crescere e divertire nello stesso momento. E uno dei motivi del cambiamento è stato proprio quello che non mi divertivo più. Che dove ero prima, il divertimento era visto male, perché dovevi essere per forza la persona in giacca, cravatta, sempre pulito, non una parola fuori posto. E non ero io, non mi rispecchiavo. stavo quasi facendo un lavoro per qualcun altro, seppur il codice fosse il mio. E io amo alla follia PM, perché PM mi ha detto, guarda, come ha detto benissimo lì, hai, tieni, questa è una Ferrari, qui te la come te pare. E ci ha dato in mano una Ferrari. Non ci ha dato in mano, con tutto rispetto, una panda. E oltre a sapersi divertire, un'altra caratteristica importantissima è quella dell'avere pazienza. La pazienza è fondamentale. Quindi vi svelo un segreto stasera, se non avete pazienza, potete fare due cose. O mollare subito, o provare ad accumularne un pochettino. Poco per volta. Perché altrimenti, credetemi, vi farete un male cane che non potete neanche immaginare. La pazienza è fondamentale, soprattutto, come ha detto benissimo Aliai, in un settore nuovo. Anche per me era un settore nuovo. I primi risultati non li ho avuti subito. Io ho la fortuna di avere pazienza. Dico, mettiamo fortuna. Di fortuna c'è poco, però mettiamo la fortuna. Di avere pazienza. Quindi non mi sono scorreggiato non vedendo i risultati, vedendo persone nel mio team che mollavano, che mi davano fiducia, giorno dopo mi sparlavano dietro. Perché sapevo che la strada era quella giusta, dovevo semplicemente fare le azioni corrette, avendo pazienza, non attendendo che il risultato arrivasse da solo. Che qualcuno confonda la pazienza, nel sto in poltrona, prima o poi succede qualcosa. La pazienza è il mi faccio il mazzo tutti i giorni, facendo le azioni corrette tutti i giorni, con pazienza. Cioè aspettando, facendo azione, che il risultato arrivi. Perché è matematico che il risultato arriva. Perché in questo settore non c'è niente di garantito, ma vi garantisco che facendo le azioni giuste e il risultato arriva. L'unico modo per fallire è smettere di fare azione. E il bello dell'avere pazienza, ripeto, significa proprio lavorare facendo le azioni corrette migliorando senza avere fretta di ottenere il risultato. Silvia e Liai sono di grandissimo esempio per quello che stanno facendo per i risultati che stanno ottenendo. Voglio mettervi in guardia sul fatto del prendere di ispirazione il loro percorso e non in paragone. Perché altrimenti si rischia di farsi male. Perché se io fossi entrato oggi senza esperienza, guardando il percorso di Silvia e Liai e dico ok perfetto, mese prossimo IMM, dopo due mesi Vice, terzo mese EVP, mese prossimo non mi compro il prodotto neanche mia mamma, mese dopo neanche mia sorella, ho perso l'opportunità della vita e molla il network marketing. Quindi è fondamentale ispirandosi agli altri ma diventando la miglior versione di se stessi. Perché si potrebbe essere molto meglio come ci potrebbe volere un po' più di tempo. Ognuno è nel proprio percorso e nel proprio tempo. Con pazienza e azione i risultati arrivano per tutti. e voglio chiudere con una frase che in realtà una frase con un concetto che ho già sentito un'altra volta e mi ha colpito molto e lo rivedo ogni volta che parlo con qualcuno che conosco persone nuove perché mi piace cercare questo lato nelle persone. Ognuno di noi ha un talento. Non esistono persone senza un talento. Se ci guardiamo allo specchio sono sicuro che subito troviamo qualcosa in cui siamo bravi ma che non deve essere per forza il parlare sul palco davanti a centomila persone fare top gold in dieci minuti o robe del genere. Può essere il a me esce bene cucinare? A me esce bene fare la maglia? A me esce bene allenarmi? A me esce bene truccarmi? Ognuno di noi ha un talento dentro di sé. Ora le ho detto a qualcuno di pastamente nel banale ma ognuno ha un talento dentro di sé. non vergogniamoci del nostro talento usiamolo per emergere ed essere differenti rispetto alla massa. Tanti dicono molto spesso quando vedono magari il gruppetto che era quello un po' dell'inizio io, Iani, Matteo, Francesco, Manuel no? Siete una cosa sola. Certo è vero e ci posso mettere la mano sul fuoco che qualsiasi decisione trova sempre la direzione corretta che ci fa andare tutti e cinque insieme che ci fa percorrere tutti e cinque insieme quella direzione ma vi garantisco che presi singolarmente ognuno di noi è completamente diverso completamente abbiamo talenti completamente diversi ma sapendoci relazionare portando rispetto gli uni per gli altri siamo riusciti a fare squadra ed è quello che siamo riusciti credetemi con la più grande felicità che io posso avere in questo momento a duplicare in questo team perché se il nostro team si riconosce in tutto il mondo è esattamente per questo motivo perché ogni persona ogni individuo è la miglior versione di se stesso ma insieme siamo il miglior team che ci possa essere e qualora tu stessi sprecando il tuo talento ascoltandomi in questa zoom forse forse dovresti un pochino vergognarti perché ci sono persone che pagherebbero probabilmente per avere una parte di quel talento non è detto che ti servirà per fare champions ma forse in parte ti servirà per essere felice sei unico sei unica distinguiti io vi ringrazio per avermi ascoltato e ringrazio ancora Silvia Liai che non ho più parole ormai per descrivervi Mattia complimenti ancora prima zoom top grazie a tutti voi ancora per essere stati qui e vi voglio bene ci vediamo a Bari perché ci sarà grazie a tutti